E' affondato purtroppo un peschereccio e ben 26 persone sono morte. Il peschereccio è affondato a largo delle coste nord-orientali dell'Honduras, ci troviamo in Centro America. Altre 47 persone invece sono state tratte in salvo. Di ciò ci informa il portavoce militare José Domingo Mesa, alla emittente radiofonica HRN. In precedenza il bilancio delle vittime era stato fissato a 27 morti circa. Nella medesima zona un altro peschereccio ha avuto poco prima un altro incidente. L'imbarcazione lunga a 13 metri circa aveva una capacità per 31 persone ma ne trasportava a 40 circa. Tutte tratte in salvo le persone. Vi ringrazio per l'ascolto, vi ringrazio per la visione di questo video di oggi. Iscrivetevi se vi va, commentate al prossimo video da narratore italiano arias Leandro di Roma.